Inusitato è una bella parola, non la uso mai, quindi mi fa piacere averla messa nel titolo. Mi piace molto il concetto delle rivoluzioni, crisi e delle trasformazioni che ha dato vita a questa serie di incontri. Impossibile parlare della scrittura senza parlare dell'epica più importante e più famosa, l'epopea di Gilgamesh. Tre anni fa ho avuto la possibilità di lavorare a Ninive, quindi mi sono messo proprio nel punto della stanza dove c'era la biblioteca di Assurbani. Ho pensato al momento in cui è stata trovata qui la tavoletta del diluvio che ha dimostrato il legame fra la civiltà medio orientale, paleobabilonese e assira per tradizione e i testi biblici della Genesi. Voi sapete che la Genesi è il capitolo più tardo di tutta la Bibbia ed è un capitolo molto discusso e complesso con la storia del diluvio, che in realtà deriva dalla collazione di due tradizioni di scribi e di elaborazione religiosa completamente diversa, al punto che nella Genesi Dio è chiamato in due nomi diversi, Y, H, V e L, che sarebbe Allah, Elohim, le due tradizioni semitiche completamente differenti. Comunque queste sono le prime frasi della prima tavoletta, il prologo dell'epopea di Gilgamesh. Mi piace sottolineare le ultime parole, quando parlò della sua vita Gilgamesh imparò la scrittura e il testo menziona specificamente quelle che per primo incisero nell'argilla le sue parole, simili a quelle di un uccello. Perché questo è così? Perché i segni cuneiformi assomigliano alle tracce lasciate da un uccello sulla sabbia, come vedete anche visivamente. Questa è una delle più antiche tavolette che noi abbiamo in Mesopotamia. Sono tavolette con segni protocuneiformi, sono segni che ancora a livello logografico esprimono il concetto, l'oggetto a cui si riferiscono con un riferimento formale. Quindi segni simili alle zampe lasciate da un uccello. Passiamo da Gilgamesh a un altro eroe, questo è Gordon Child. Gordon Child è stato uno dei più grandi archeologi del secolo scorso. insegnava all'University College di Londra, però agli occhi degli inglesi aveva delle colpe gravissime. In primo luogo era omosessuale in un ambiente fortemente maschilista, poi era comunista, ma la cosa più grave era che era australiano, cosa che non gli perdonarono mai per tutta la sua vita. Child fu una persona, proprio entriamo nel tema anche delle vostre chiacchierate di queste presentazioni, le rivoluzioni. Child introdusse il concetto di una rivoluzione neolitica, di una rivoluzione urbana e poi di una rivoluzione industriale. Grandi momenti in cui le trasformazioni si sono succedute a ritmi così intensi da praticamente cambiare nell'arco di poche generazioni le stesse modalità di vita delle persone. In questo quadro Gordon Child aveva collocato la scrittura e l'aveva considerata come uno dei parametri più importanti della conquista della civiltà urbana. Cioè secondo Child non potevano esserci città senza scrittura e per estensione senza lo Stato. In realtà la ricerca antropologica degli ultimi 50 anni dimostra che ci possono essere città senza Stato, civiltà senza scrittura, Stati senza scrittura. Il quadro della nostra complessità sociale è molto meno regolare e molto più articolato di quanto non avessimo pensato. Vi faccio vedere solo un altro studioso importante che si è espresso sulla scrittura, Claude Lévi-Strauss, uno dei più grandi antropologi del secolo scorso. Claude Lévi-Strauss fu molto secco, disse che la scrittura è un mezzo per schiavizzare le persone. Perché diceva questo Lévi-Strauss? Secondo me in larga misura ha ragione, nel senso che con la scrittura, guardando quello che è successo nel sviluppo delle civiltà del bronzo antico, che sono quelle di cui io mi occupo, con la scrittura è possibile controllare la gente non solo nel momento in cui avviene un'interazione vis-à-vis una persona di fronte all'altra, ma anche controllare quello che questa persona ha fatto prima e anche quello che questa persona farà dopo. Quindi la scrittura in realtà dilata le nostre personalità virtuali, crea delle immagini e dei ruoli virtuali e in questo senso ci obbliga a fare delle cose, siamo controllabili per quello che abbiamo o non abbiamo fatto, è quello che dobbiamo fare e che magari non faremo. Quindi da questo punto di vista la scrittura è un potente mezzo di controllo sociale. Quali sono le prime forme di scrittura che noi conosciamo? Queste sono le più note in assoluto, seconda metà del quarto millennio. Sono queste tavolette d'argilla, trovate in mesopotamia meridionale, sono fatte di alcuni segni che si identificano come rappresentanti degli oggetti, degli animali, dei contenitori e dei numeri, più dei segni che si riferiscono probabilmente a un'istituzione. Queste tavolette noi le possiamo leggere, nel senso che capiamo cosa vogliono dire, ma non sappiamo che lingue esprimevano. Molto probabilmente si tratta di una forma antica della lingua sumerica, che era la lingua probabilmente parlata, però diciamo probabilmente perché non ne abbiamo la certezza. Quindi capiamo cosa vogliono dire, è come se fossero dei numeri per intenderci. Tre lo possiamo chiamare in tutte le lingue che vogliamo, ma rimane sempre tre. Quindi questo è un po' il senso di queste tavolette. Allora, che problema si portano dietro queste tavolette? Se ne portano dietro uno molto grosso, cioè sono sempre state trovate in contesti secondari. Per un archeologo che cos'è un contesto secondario? Vuol dire che non sono mai state trovate in un archivio, ma in grandi riempimenti all'interno di grandi edifici, talmente strani che non sappiamo neanche a che cosa servissero. Edifici che tra l'altro furono abbandonati intorno al 3000 avanti Cristo, furono un grosso fallimento a livello sociale questi edifici. Probabilmente queste tavolette funzionavano in questo contesto, ma non lo sappiamo perché sono state trovate nella terra, buttate dentro questi edifici per rialzarli e trasformarli in piattaforme per costruirne degli altri. Secondo problema, nello spazio che va dal 3500 al 3000 avanti Cristo, noi abbiamo qualcosa di strano, è successa un'eruzione solare, un'anomalia nell'atmosfera, la terra ha girato in un modo strano, non lo sappiamo bene, ma in pratica il radiocarbonio non funziona. Cioè tutte le date che vengono da quel periodo lì non possono essere ricondotte a un orizzonte ristretto e sono estremamente vaste. Questo fa sì praticamente che questi documenti, non possiamo datarli con precisione, compaiono più o meno nello stesso periodo in Iran, a Susa e in altre città dell'Iran e in Mesopotamia. Noi abbiamo sempre assunto come preconcetto che la Mesopotamia è l'origine di tutto, per cui le tavolette della Mesopotamia sono più antiche e gli iraniani le hanno copiate, ma in realtà di questo non c'è nessuna certezza. Perché? Perché non possiamo usare il radiocarbonio per capire chi è venuto prima e chi è venuto dopo. Quindi ci teniamo al nostro dubbio. Le informazioni che queste tavolette danno sono quelle di uno scontrino del supermercato, vedete, né più né meno. Cioè di solito c'è un'indicazione del... non so se si vede qua, sì molto poco, vabbè faccio a meno. C'è un'indicazione del, in questo caso del negozio, chiamiamola dell'istituzione, del gruppo di pertinenza di questa transazione. Ci sono delle quantità, una descrizione degli articoli e poi c'è un totale in basso a destra. Questo è esattamente quello che c'è in queste tavolette. Quindi questa è l'origine, diciamo, della scrittura con le forme in Mesopotamia. Cosa succede in altre parti del mondo? La scrittura nacque sempre così? No. In Cina nacque con uno scopo totalmente diverso. Queste sono delle ossa oracolari di età Shang in Cina, XIII-XI secolo a.C., che corrisponde all'antica età del bronzo della Cina, con un ritardo di circa mille anni o anche duemila rispetto a quello che era venuto in Mesopotamia. I segni che vedete sono ancora i segni attuali che usano i cinesi. Cioè nell'età del bronzo cinesi avevano già la scrittura che hanno adesso. È una scrittura puramente ideografica, d'accordo? Cioè ogni segno corrisponde a un concetto, a una cosa. E perché incidevano questi segni sulle ossa animali? Perché erano usate dagli sciamani di corte per ricavare delle predizioni dagli dèi. Quindi sono domande incise su queste ossa, sono scapole di bovini o di pecore e sono gusci di tartaruga. Su questi gusci scrivevano, se domani sacrifichiamo 200 prigionieri di guerra avremo un risultato favorevole, il Dio ci guarderà con occhi benigni. Se domani facciamo una partita di caccia prenderemo 200 gazzelle, 300 gazzelle, 4 elefanti, domande di questo tipo. Per pilotare le risposte gli sciamani, chiamiamoli così anche se non è proprio la parola, vedete queste serie di buchi sul retro? Incidevano sul retro dell'osso oracolare con un trapano e un punzone di bronzo arroventato, una serie di buchi che guidavano la formazione di crepe dall'altra parte. Quindi in un certo senso le persone responsabili dei vaticini guidavano la risposta per far fare, giustificare un po' agli occhi del sovrano della corte il tipo di attività che doveva essere fatta. Questo faceva sì che le persone responsabili di questa pratica divinatoria molto spesso non fossero membri della corte Shang della Cina, ma fossero degli estranei, molto spesso delle spie o persone legate alle case regnanti dei paesi vicini, in modo che ci fosse un'interfaccia per poter in qualche modo guidare certi eventi politici e mettere d'accordo diverse polities, diversi gruppi di potere, evitando che succedessero dei grandi disastri, una cosa molto sottile e molto particolare. Questa fu l'origine della scrittura cinese, che i cinesi usano ancora oggi, perché quando gli archeologi dell'Accademia delle Scienze Cinesi trovarono queste enormi fosse e piene zeppe di queste osse roccolari, si resero conto che potevano leggerle. Immaginate se noi potessimo leggere, per esempio, dei testi scritti ai tempi della civiltà delle terra-mare con la nostra stessa, diciamo, scrittura. Quindi vedete, questo non ha nulla a che vedere con le dinamiche con cui la scrittura è nata in Mesopotamia. Qui siamo in Egitto, in Egitto, etichetta d'avorio con i primi segni protogeroglifici. Perché gli egiziani inventarono la scrittura? Per un motivo molto semplice. Le varie parti dell'Egitto, quando l'Egitto era unificato, perché a differenza della Mesopotamia, della Cina o di altre parti del mondo, l'Egitto intorno al 3200-3300 a.C. era già un'unica nazione, unificata militarmente. Tutti i nomi, le varie parti dell'Egitto, concorrevano a fare il funerale del farone e ognuno scriveva sui beni delle etichette di avorio, con su scritto di che si trattava e da dove venivano. Quindi la scrittura egiziana nacque per poter gestire a livello burocratico e di rappresentazione politica il contributo dalle diverse parti del paese al funerale del re. Anche questo ha un'origine, come vedete, del tutto differente dagli altri due casi. Qui siamo in India. In India nacque un sistema di scrittura, anch'esso per conto proprio, le cui uniche radici noi vediamo in sistemi di segni che compaiono su dei vasi di terracotta, a volte incisi prima della cottura del vaso, a volte dopo. Quindi sembra che loro scrivessero per indicare un po' i contenuti dei vasi, in un sistema in cui i vasi venivano usati come contenitori per gestire degli scambi o cose di questo genere. Quindi anche qua un processo completamente diverso. Quindi forme di scrittura sono sorte in modo del tutto indipendente, in luoghi e periodi diversi e con finalità totalmente differenti da caso a caso. Il passaggio delle prime, diciamo, notazioni scritte alla rappresentazione fonetica del linguaggio, cioè il segno non rappresenta più un oggetto o un concetto, rappresenta un suono e può essere combinato per riprodurre a piacere qualsiasi suono che noi vogliamo, fu non un'evoluzione scontata e necessaria, ma un caso che avvenne più raramente e in circostanze più limitate. Delle scritture che poi fecero questo salto sono alcune di noi, sono alcune sono giunte fino a noi e di queste che sono giunte fino a noi solo una parte noi sappiamo leggere. Quindi vedete è un quadro complicato. Allora andiamo in Iran, nel Kudzistan, qui siamo a Susa, scavata dai francesi. Questa è l'acropoli di Susa scavata da una missione francese a partire dalla fine dell'Ottocento. Tra l'altro le persone che scavarono Susa erano stati i primi responsabili dell'archeologia nell'Egitto, nell'Egitto quando l'Egitto era protettorato praticamente europeo. E sono le stesse persone che avevano saccheggiato letteralmente le prime tombe dei farroni egiziani. I primi archeologi francesi in Egitto andarono a Davido a scavare le tombe reali, trovavano queste stanze piene di vasi, spaccavano a badilata tutti i vasi che trovavano, ne portavano via solo uno per fargli aumentare il valore sul mercato antiquario e questi erano i dirigenti del sistema praticamente archeologico egiziano. Poi come promozione furono andati in Iran dove fecero un disastro pazzesco, questi vedete sono gli scavi di Susa, Susa non ha nessuna stratigrafia, c'erano treni e binari di vagone di ferro che portavano via tonnellate di terra, distruggendo gli edifici in mattone crudo a picconate perché non li vedevano e raccogliendo soltanto le sculture in pietre, le tavolette quando le trovavano, perché le tavolette ricordiamoci sempre sono quasi sempre in argilla cruda, se sono in terracotta è perché casualmente erano state cotte ma la gente scriveva sull'argilla cruda. Perché parliamo di Susa? Perché a Susa comparve l'altra scrittura di cui parliamo oggi, la scrittura detta Proto-Elamica, è una scrittura che ha molti elementi in comune con quella protocuneiforme della Mesopotamia, Susa si trova a 200 chilometri dalle grandi città mesopotamiche, fa parte dello stesso ambiente socioculturale, si datano come abbiamo detto più o meno allo stesso periodo, 3300-2900 a.C., senza possibilità di usare il radiocarbonio anche in questo caso. Susa è stata scavata così estensivamente che circa più di 1564 tavolette vennero trovate a Proto-Elamica e negli altri otto siti in cui comparve questo sistema di scrittura le tavolette sono poco più di 200 fino ad oggi. Qui vedete una grande tavoletta con una serie di notazioni numeriche, capite immediatamente quali sono i numeri, sono quei cerchi con le tacche, i cerchi rappresentano di solito le decine, le tacche rappresentano le unità, poi vi sono dei nomi, quei triangoli che vedete lì rappresentano l'istituzione, cioè probabilmente il tempio, la casa tal dei tali o il magazzino incaricato di fare tal cosa e poi abbiamo ancora numeri. E poi ci sono le impronte di sigillo del proprietario che garantisce con la sua autorità, con il proprio sigillo, la transazione. Ecco, questo è il motivo per cui non bisogna mai scavare i siti del vicino oriente a piccone, questa è la più bella tavoletta trovata da un archeologo che io conosco molto bene, americano, scavava un sito in Iran a picconate, ha centrato la più bella tavoletta esattamente al centro, ha spaccato in mille pezzi, peccato, insomma, questo è perché il piccone non si deve mai usare. Faccio vedere altri esempi di tavolette proto-Elamiche, vedete una scrittura molto elegante, siamo sempre fra il 3003 e il 3000 avanti Cristo, il 2009, questa scrittura in Iran viene abbandonata dopo il 2900 avanti Cristo e per sette secoli in Iran non abbiamo più attestazioni di scritture. Le tavolette proto-Elamiche, come quelle mesopotamiche, sono documenti d'archivio, quindi registrano trasferimenti di cereali, animali, lavoratori, prodotti di caseari tipo burro, yogurt, formaggio, sempre in piccoli numeri, poche tavolette hanno numeri superiori a un centinaio o due centinaia. Una volta sola ci sono mille oggetti, non mi ricordo se sono animali o vasi, ma numeri molto alti sono estremamente rari. Una cosa particolare, con le tavolette proto-Elamiche non si registrano le mucche, non c'è mai la menzione di una mucca, solo pecore e capre, per qualche motivo. Questo è uno dei misteri che si hanno, però sono segni che noi leggiamo, anche perché sono identici a quelli usati in Mesopotamia, questi segni. Quindi è un sistema di controllo che non valeva per i bovini. Allora, come si legge una tavoletta proto-Elamica di questo tipo? Vedete, in alto a destra, allo sopra, c'è la designazione di un'istituzione, vuol dire il tempio, il magazzino, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle sequenze, quello è il nome della persona, sono nomi individuali espressi foneticamente. Poi ci sono i segni che indicano il bene trattato, la croce che sta per pecora, praticamente, in Mesopotamia era un cerchio con una croce dentro, molto simile. E poi ci sono dei numeri, quindi sono animali dati a diversi pastori, ognuno segnato col proprio nome. Girata la tavoletta c'è il totale, il che vuol dire che è la registrazione dell'istituzione che presta gli animali, di solito ha interesse, di solito se uno dava un tot di pecore, maschi e femmine, a un pastore si aspettava di ricevere un certo numero di agnelli, quindi questo era l'obbligo, vedete, la schiavitù che comporta la scrittura per la persona che prendeva il prestito di restituirlo. In realtà, anche qua, siamo sempre nella logica, come dicevamo prima, dello scontrino del supermercato. Vedete, l'indicazione dell'istituzione, in questo caso non è pubblicità, ma insomma in questo caso c'è il grande magazzino, la data, la descrizione precisa delle merci e poi il totale della spesa, cioè non siamo tanto lontani da cose che conosciamo molto bene. Ora, la teoria che è sempre stata, diciamo, che troverete sempre nei libri è che tutto è partito dalla Mesopotamia, che quindi in Iran è stato copiato questo sistema adattando i segni della Mesopotamia. In realtà non c'è nessuna base archeologica per questo, deriva solo dal preconcetto. Come dicevo prima al professore, noi siamo mesopotamocentrici, noi facciamo risalire tutto alla Mesopotamia, per un motivo molto semplice, perché dalla Mesopotamia viene la tradizione biblica, che è quella in cui noi riconosciamo la nostra identità giudaico-cristiana. Ma in realtà, come noi ci addentriamo nel mondo esterno, a oriente di Sumer, troviamo delle sorprese che non possono essere facilmente ricondotte a questo tipo di prospettiva. Allora, questa a sinistra, vedete, in alto a sinistra, una tavoletta proto-elamica. A destra, la successiva scrittura che noi troviamo in Iran, che è la scrittura elamita lineare. Ora, noi usiamo questa parola elam, elamita, per questi periodi molto antichi. In realtà, prima dell'impero accadico, cioè prima del ventitresimo secolo, questa parola non ha molto senso, è una costruzione che è stata fatta dall'Accademia per parlare di queste civiltà dell'Iran sud-occidentale e avere un nome comune per l'inizio e la fine del terzo millennio. Quindi prendiamole sempre, tra virgolette, questo concetto di elamita proto-elamico come scrittura e elamita lineare, il sistema di scrittura. Come vedete, è abbastanza simile. Questo è un esempio che viene da una serie di vasi d'argento che hanno una storia molto strana, sono stati rubati dall'Iran, portati da un antiquario a Londra, da un antiquario armeno. Poi vi dirò qualcosa di più su questa storia. Ora, quando i francesi scavavano distruggendo Susa, come vi ho detto, emergevano dalle statue in pietra. Questa statue in pietra che sta al Louvre, nella Sala delle Antichità Orientali, è una bilingue. Ha a sinistra una scrittura accadica, con sistema di cuneiforme accadico, e a destra un testo di scrittura elamita lineare. Siamo nel ventitresimo secolo, ventiduesimo. Come vedete, il testo elamita lineare è molto più breve, molto più semplice di quell'altro. Quindi si sapeva già che non era una bilingue perfetta come quella della stella di Rosetta. Ci sono anche delle tavolette, anche se sono poche, che riportano testi in elamita lineare che fino all'altro anno noi non eravamo in grado di leggere. Al punto che questo signore è un mio collega che insegna a Oxford, si chiama Giacomo Dalle, scrisse questo articolo. Questo è il classico articolo che nessuno studioso avrebbe mai voluto scrivere. Perché lui in questo articolo cosa dice? Dimostrerò che mentre la scrittura proto-elamica, quella più antica delle prime tavolette che vi ho mostrato, può essere decifrata, in quanto è un vero e proprio sistema di protoscrittura, l'elamita lineare non può esserlo. È improbabile che l'elamita lineare rappresenti un vero e proprio sistema di scrittura. Appare piuttosto come un insieme di pseudotesti con un sistema di segni non standardizzato. In pratica lui pensava che gli iraniani fingessero di scrivere per darsi un contegno e quindi i ref facessero dei segni a caso per dire sono figo anch'io. Ma era chiaro che è un'idea ingenua questa, d'accordo? Stiamo parlando di una corte reale. Ora, appunto, questo è un articolo che il mio collega non avrebbe mai dovuto scrivere perché un mio studente, che si chiama François Dessé, che lavora con me in Iran, è andato nella famosa casa di antiquariato di Londra, ha cominciato a prescrivere i testi nell'elamita lineare di questi vasi d'argento che i miei colleghi, siccome non avevano provenienza sicura e roba rubata, facevano finta che non esistessero. Tra l'altro con dei veri e propri capolavori, come vedete in questo caso, un re iranico del 2100 a.C., e ha cominciato a codificare tutte le scritture. Questo è François Dessé, si chiama François come Champollion, tra l'altro. E come diceva lui, siamo 200 anni dopo, e poi vi mostrerò delle altre analogie con questo caso. Ha cominciato a trascrivere in parte questi vasi, sono vasi di dedica dei rituali reali, le iscrizioni sono noiosissime, dicono io al tal dettaglio, ho fatto questo, ho portato il vaso d'argento al tempio della Dea, eccetera, eccetera. Quindi di per sé non danno delle grandi informazioni, ma ci permettono di capire, uno, che questa è una forma molto arcaica di Elamita, quindi abbiamo 40 nuove iscrizioni in una lingua che non assomiglia a nessun'altra, una lingua di quelle che sono emerse dalla preistoria più profonda. E un po' per volta cosa ha fatto lui? Ha codificato i segni, ha cominciato a vedere le varianti, e ha visto la struttura dei testi. I testi collocavano il nome del re, perché li poteva leggere in accadico, più o meno in quelle posizioni, è andato a vedere le liste reali che conoscevamo dalle liste accadiche, come vedete qui, e si è trovato nella stessa condizione di Champollion, con la stella di Rosetta. Vedete nei cartusci i nomi dei re, a sinistra la lettura della pubblicità più importante di Champollion, ram, s, s, sapete che l'egiziano, come molte lingue del vicino Oriente, si basava sulle consonanti, non sulle vocali, quindi ram, s, s, e il mio studente ha trovato shil, ha, ha, shil, ha, ha, è un re, noto dalle liste reali. Poi ha letto il sushinak, ha letto ebarat, un po' per volta ha trovato tutti i nomi dei re. Questo ha permesso di risalire a dei verbi, a delle notazioni pronominali, e via dicendo, e in pratica quest'anno è stato pubblicato, vediamo se ce l'ho qua, vabbè, ve lo faccio vedere dopo, l'articolo definitivo da questo punto di vista, con cose che a questo punto riconosciamo identiche a quella della Mesopotamia. Vedete i testi come si leggono di queste tavolette, pape, pupi, memu, mammi, cosa possono essere queste cose? Sono gli esercizi degli iscritti, esattamente come Mesopotamia, liste di parole, vedete un frammento molto piccolo di una tavoletta, ma è esattamente quello che uno si aspetterebbe quando c'è una scuola scribale che insegna alle persone a scrivere. E un po' per volta, vedete, frasi più lunghe che hanno cominciato a uscire. Quindi, mentre il sistema protelamico, quello più antico, era sia logografico sia fonetico, vi ricordate che i nomi delle persone erano espresse in modo fonetico, il sistema di scrittura e la mita lineare è puramente fonetico, puramente sillabico, la più antica scrittura puramente fonetica, non c'è un ideogramma in tutta la scrittura. Questo perché l'Iran è sempre stata una terra talmente, come posso dire, composita dal punto di vista culturale e linguistico, che solo una scrittura puramente fonetica poteva adattarsi a esprimere le transazioni fra gruppi di persone completamente differenti. Ok? Quindi adesso la questione è, le lamita lineare che noi conosciamo da 2300 a.C. in poi e quella protelamica che scompare nel 2900, sono lo stesso sistema di scrittura oppure no? Questo non lo sa ancora nessuno. François Dessé sta lavorando per provare a vedere se i segni e elementi lineari che lui legge adesso, collocati sulle tavolette più antiche, possono avere un significato. E questa sarebbe una rivoluzione, perché noi per questo periodo così antico in Mesopotamia non abbiamo nessun nome personale, perché non li leggiamo ai nomi personali. I nomi personali nel vicino Oriente spesso inglobano i nomi delle divinità, figlio del Dio, eccetera. Pensate se potessimo leggere i nomi di divinità del 3000 a.C., una rivoluzione totale nella nostra disciplina. Pensate se alcuni di questi nomi fossero semitici, che cosa succederebbe nel campo filologico. Quindi questa è un po' la porta che si sta succhiudendo. D'accordo? Piccolo inciso, e qui sarà un po' polemico, François si è presentato a un concorso fatto da una collega di Bologna, dell'Università di Bologna, è stato bocciato, hanno fatto passare una ragazzetta che ha scritto tre articoli con una serie di concordanze matematiche tra alcuni dei segni protolamici. Lui che ha decifrato l'elamità lineare è arrivato secondo. Vabbè, è chiusa la polemica. Io non ho una grande stima del mondo accademico pur facendone parte. Vi chiedo scusa. Andiamo in un'altra parte dell'Irano, ancora più a est e a sud-est. Jiroft, questa civiltà, emersa da nulla circa vent'anni fa. Vi do solo alcune immagini per farvi capire di cosa si tratta. Queste sono le rovine di un grande palazzo, costruito probabilmente fra il 2004 e il 2000 avanti Cristo. Un'enorme massa di mattoni crudi. Allora, avete al centro il palazzo, è circondato da un muro spesso 5 metri e qua, dove ci sono le linee gialle, c'è un muro spesso 30 metri, fatto tutto di mattone crudo. Intorno c'erano case private. Intorno al muro ci sono scarichi di impronte di sigillo, resti di pietre semipreziose, trapani e via dicendo, ripostigli di statuette di pietre. Fuori dal muro c'è un quartiere metallurgico con 10 fornaci per fondere il bronzo. E la cosa che ci interessa qua, le tavolette, vedete, a 500 metri dal palazzo. Vi farò vedere la scoperta di tavolette con un altro sistema di scrittura di cui nessuno aveva mai avuto sentore. Prima però, guardiamo un attimo l'ingresso del palazzo. Quello che resta è tutto eroso, ma sono tre o quattro fasi di costruzione. All'ingresso, gli archeologi iraniani hanno trovato un ingresso monumentale con queste statue di argilla cruda dipinta, con le braccia gialle messe così, che è la posizione di venerazione tipica del mondo sumerico. Un vestito fatto di triangoli rossi e neri alternati e vicino frammenti di tavolette e scacchiere in clorite con un uomo scorpione, in cui le parti del corpo dello scorpione sono i punti dove si muovono le pedine del gioco. In questa stanza, che vedete qui, è una stanza usata a livello amministrativo, 200 impronte di sigillo, tutte su piccoli sacchetti di cuoio, che vuol dire che dentro c'erano polvere d'oro o pietre preziose, qualcosa di molto specifico, perché sacchettini piccoli, chiusi così e sigillati in questo modo. Siamo a Jiroft, questa città nel sud-est dell'Iran, sconosciuta, fino a che non è emersa questa civiltà. Questa civiltà corrisponde probabilmente all'antico paese di Marhashi, che è il paese più citato dalle fonti mesopotamiche della seconda metà del terzo millennio. All'interno di questi sigilli, di questi 200 sigilli, i tre che vedete in basso e lì, scusate, in alto a destra, sono nello stile locale, ma vi sono delle impronte di sigillo mesopotamico, che dimostra, questo è un sigillo del dinastico antico 3B, quindi siamo intorno al 2005, avanti Cristo, 2006, è il periodo di massimo contatto probabilmente di questa civiltà per quanto riguarda gli oggetti trovati iraniani in Mesopotamia e qualcosa, qualcosina anche dall'altra parte. Fra questi sigilli, in un altro punto in realtà, non nella stanza di cui vi ho parlato, è stato trovato un sigillo delle città. I sigilli delle città in Mesopotamia sono sigilli che hanno solo emblemi di città mesopotamiche, ma tutti insieme, come se fossero delle anfizionie. Quindi la persona che aveva questo sigillo poteva agire diplomaticamente per tutte le città messe insieme, un po' come nel mondo greco, in cui le anfizionie funzionavano da leghe sacre fra città diverse. Quindi vedete, in questo piccolo frammento, si data non dopo il 2009-2800 a.C., un periodo per cui le fonti storiche non ci dicono nulla, perché non le conosciamo, ma si riconoscono chiaramente i simboli di alcune città importanti. In primo luogo Ur, che vedete quella specie di triangolo col becco, in altra sinistra lì, e probabilmente anche altre città. Queste sono altre rappresentazioni dei sigilli delle città. Quindi manifestazioni di contatti molto molto antichi. A cosa servivano questi sigilli? A chiudere quasi sempre porte di magazzini. Quindi erano stanze in cui si metteva dentro qualcosa e per riaprirle serviva l'autorità di questi funzionari speciali che potrebbero agire per tutte le città e non soltanto per una. Ecco, qui vedete il simbolo di Ur, forse quello di Nippur, forse quello di Uruk, forse, anche in questo caso non siamo certi, perché è un lacerto piuttosto piccolo. Ora, io ero lì in quel periodo, siamo intorno al, cosa sarà stato questo? Sarà stato il 2006-2007, così, forse anche il 2009. un contadino arriva nella casa della missione, io ero stato invitato dal direttore iraniano dello scavo a prendere parte alla missione, dice, ho trovato questo frammento di tavoletta anche nel cortile di casa, tutti facevano buchi dappertutto per cercare tesori in quel periodo. Lui ha trovato questa tavoletta che non sapeva cosa fosse, non aveva un valore commerciale a livello antiquario. La portò al direttore della missione il quale decise di fare uno scavo nel cortile della casa del contadino e quindi ci si allargò in questo, nello spazio che restava tra la casa e il palmetto era un cortile. Qui vedete le ragazze iraniane, le ragazze iraniane, questa è una zona molto rurale, esterna dell'Iran, quindi le ragazze devono per forza vestirsi così di nero, ma vi assicuro le donne iraniane non hanno nessuna remora a interagire con i maschi, con coraggio, con indipendenza, fanno tutto quello che fanno i maschi e non si tirano mai indietro su niente, sono delle persone eccezionali. Queste sono le studentesse dell'università locale e questo è Yussef Magizzade, il direttore nel momento in cui estrae dal terreno una tavoletta. Allora, guardate queste tavolette, questa è la mappa, non bellissima, ma più o meno insomma rende l'idea, le zone grigie sono i buchi fatti dal tombarolo, per dire, vicino, attaccato, trovò una specie di fornace, un focolare e sono emerse tavolette. Queste tavolette hanno da un lato una scrittura mai vista prima che noi chiamiamo la scrittura geometrica, la vedrete meglio, sul retro c'è un'iscrizione nella mita lineare tracciata dopo che la tavoletta si era un po' essiccata, è come se fosse una procedura di controllo nella mita lineare su qualcosa registrato con una scrittura completamente diversa. Quindi in tutto per adesso abbiamo quattro tavolette con questa scrittura, tre trovate in questo scavo e una che veniva dalla cittadella, quel tell che avete visto prima. questi sono i segni, quella in alto rotta è quella della cittadella e queste altre sono state trovate in questo scavo, lì vicino c'è un archivio quasi sicuramente, ve le faccio vedere rapidamente, sono 26-27 segni, non so se questo vi dice qualcosa. Questa è la trascrizione, questa è l'altra, dietro alla frase nella mita lineare, eccola qua, ora che cosa siano queste tavolette noi non lo sappiamo, potrebbero essere per quanto ne sappiamo notazioni musicali o conti di pecore o regole per la tessitura, non lo sappiamo ma qual cosa sono, anche perché il numero di segni è molto molto limitato. Ecco, François Desse ha scoperto che se la tavoletta è letta in senso bustrofedico, cioè da sinistra a destra, a destra a sinistra, ci sono delle parole tra virgolette che si ripetono nelle varie linee nello stesso modo, quindi le sequenze hanno una loro regolarità, non se ne ha raccorta nessuna. Questa è sempre l'iscrizione, queste si leggono adesso, lui non l'ha ancora pubblicato lo studio di queste, ma sono sequenze che si leggono, probabilmente sono dei nomi, oppure esprimono qualcosa in una lingua che non sappiamo, può darsi che non sia neanche la mita, vedremo, è tutto materiale in corso di studio. Chiaramente questa storia crea uno scompiglio pazzesco, una rivoluzione nell'ambito archeologico. E cosa succede? Qual è la reazione dell'Accademia di fronte a una roba del genere? È tutto falso, è tutta una froda, questo è quello che è stato detto. In particolare, ora, qualsiasi archeologo che ha scavato nel vicino Oriente e vedendo questa foto sa perfettamente che questa non è una tavoletta impiantata nel terreno, è impossibile mettere una tavoletta per terra senza che si veda che la terra sia stata smossa intorno. Quindi, proprio su questo, io ci metto la testa di mia figlia non ha nessuna nessuna preoccupazione. Ero anche presente quando le hanno trovate, so benissimo che sono autentiche, non sono dei falsi. Eppure, i grandi studiosi del tempo, e questo è sempre quello che negava che la metà lineare fosse una scrittura, dice, nessuno specialista nel mondo considererebbe queste se non dei falsi assoluti. Quindi questo è il... Perché? Perché non era possibile che lì in Iran nella fine del terzo millennio qualcuno scrivesse con una scrittura di cui nessuno aveva mai avuto sentore. Quindi, negazione, negazionismo totale. Questo è un altro, Steve Farmer, è uno che è diventato molto popolare in un certo periodo sostenendo che la scrittura dell'Indo non era una vera scrittura e ha scritto frasi di questo tipo, le popolazioni dell'Indo erano analfabete, come se si potesse dire una cosa del genere. Tutti erano analfabete nel terzo millennio, solo una minoranza della popolazione sapeva scrivere. Quindi, una cosa così detta agli indiani in questo modo, una frase stupida e insultante fatta per destare clamore nella stampa e diventare famosi. E chiaramente questo giudizio si è esteso immediatamente alle tavolette di Giroft e lui scrisse anche l'analisi ha rapidamente messo in dubbio la legittimità del pezzo che sono quattro, otto parentesi, che include un numero irragionevolmente piccolo di segni, ma lo decide lui come diavolo doveva scrivere questa gente 5.000 anni fa, un americano che sta a palo alto, non lo so, in California. prendiamoci conto di queste cose e via dicendo. Adesso non voglio infierire su questi atteggiamenti, però sono quelle occasioni in cui veramente si perde la possibilità di risparmiarsi una brutta figura. E allora, i miei studenti, io faccio sempre vedere questa storia, la storia dell'ornitorinco, che oltre a essere una bestia molto simpatica e interessante come è stata gestita nella cultura occidentale. arrivavano questi animali impagliati che erano impossibili, avevano le zampe dietro con una culeo palmate come quella delle ocche e con una culeo velenosa. Era un mammifero ma faceva le uova e aveva il becco, un mammifero peloso col becco, non si era mai vista una bestia del genere. Per cui tutti a dire è falso, è falso, è falso. Chiaramente bisogna sempre trovare dei colpevoli e la cultura razzista del tempo cosa disse? Sono i marinai cinesi che quando viaggiano praticamente dal sud-est asiatico verso l'Europa nelle barche non sanno cosa fare cuciono animali falsi. Fino a che praticamente questa roba ecco per cui sarebbero state delle cose di questo tipo l'ornitorinco e ci hanno creduto tutti per due o tre generazioni di biologi. Fino a che questo signore ha avuto per le mani un ornitorinco secco e ha cominciato a dire scusate tanto ma io queste cuciture non le vedo. Questo qua è vero mi dispiace per tutti ma è un animale vero fatto così non ci posso fare nulla in pratica. Per cui io faccio sempre vedere queste cose e dico lunga vita all'ornitorinco cioè dobbiamo sempre renderci conto in archeologia noi troviamo cose ne troviamo un esempio per un milione di cose che sono scomparse gli ultimi miei colleghi pensano che una cosa trovata per essere unica deve essere necessariamente falsa non è così a noi arrivano per circostanze inimmaginabili rarissime frammenti di questo mondo del passato e molto spesso abbiamo dei frammenti unici per questo ancora più significativo. Guardate questo è il panorama di tutti i siti del terzo tutti della parte dei siti del terzo millennio che siamo riusciti a scavare fra Pakistan Turkmenistan Afghanistan pochissimi Iran e poi si arriva in Mesopotamia quindi è un universo enorme da quando i compagnieri sovietici hanno avuto la brillante idea di invadere l'Afghanistan cosa che ha determinato la caduta del loro impero tra l'altro e una serie di catastrofi che si sono riverberate in tutto il mondo euroasiatico le autorità locali hanno perso il controllo della sicurezza dei siti archeologici e tutti si sono messi a saccheggiare migliaia di necropoli un'enorme quantità di manufatti preziosi si sono riversati sull'Europa l'Australia il Giappone gli Stati Uniti la Francia e sono finiti nelle collezioni private dove io ho potuto recuperarne qualcuno perché io personalmente non vedo perché vista la distruzione dovremmo anche rinunciare alla conoscenza che queste distruzioni hanno causato allora in alto a destra vedete un vaso accadico c'è un prigioniero dell'Iran sudorientale di Jiroft legato con un anello al naso e con le braccia così sotto avete un altro prigioniero identico in un vaso d'argento che viene da dove? dall'Afghanistan settentrionale questa è l'unica testimonianza lo diciamo per lo stile perché questo è lo stile palatino della Battriana quindi delle pianure della Mudaria al nord praticamente dell'Afghanistan e c'è chiaramente rappresentata una scena di un corteo probabilmente guidato da un sacerdote alla prima figura a destra e stanno portando un prigioniero del sud-est dell'Iran probabilmente di Markashi di questa forte civiltà scoperta da vent'anni per ammazzarlo quest'anno ne ho trovato un altro vaso in un'altra collezione privata eccolo qua sempre nello stile palatino della Battriana questo è tremendo questo vaso io sono stato male prima di disegnarlo perché ho dovuto vedete questo è lo sviluppo fotografico non si vedono bene le figure in questo ma vi faccio vedere il mio disegno ci ho messo 8 ore a fare questo disegno e rappresenta l'uccisione di un bambino vedete in basso a destra un bambino legato con una catena al collo le serie di anelli che sono davanti sono probabilmente anelli d'oro è uno dei modi in cui circolava la ricchezza aurea rappresenta questo gruppo di armati che hanno sconfitto evidentemente un capo dell'Iran sud-orientale nudo portato via lo riconosciamo dalla sua treccia dalla barba che è una forma diversa e lo stanno portando all'esecuzione vedete i segni che ci sono dietro questa è la scena sono le due scene comparate forse si riferiscono allo stesso episodio bellico e se vedete bene questi sono i personaggi vedete che ci sono dei caratteri scritti eccoli qua sono dietro le teste delle persone ora questa può essere una scrittura finta può darsi però la posizione dietro la testa sembra proprio indicare il nome di un personaggio reale quindi questa è un'altra scrittura di cui nessuno ha mai sentito parlare fino ad ora l'unico caso forse c'è un altro vaso vediamo se ce l'ho dopo ecco questi cammelli hanno un segno qua che potrebbe essere il nome dell'animale non lo so in tutto per il momento sono una ventina di segni però i segni che la compongono non sono più di 10-12 sono segni come vedete molto semplici non hanno nessun riferimento ideografico niente esclude che possono essere segni alfabetici non lo sappiamo quindi intanto pubblichiamo sta roba vedremo se ne escono altri esempi di sta scrittura eccoli qua vedete le tre iscrizioni quindi tre scritte in modo un po' regolare da me qualcosa del genere insomma ci fa riflettere in conclusione noi avevamo tre scritture che non potevamo leggere del terzo millennio avanti cristo il lineare A di Creta che vedete in alto a sinistra la scrittura dell'Indo sul lato destro e le lamita lineare da quest'anno 200 anni dopo appunto Champollion possiamo leggere le lamita lineare ci restano le altre due come scritture che non possiamo ancora leggere in conclusione questo è il senso di quello che vi volevo dire oggi negli ultimi 40 anni i conflitti internazionali hanno causato una irrimediabile devastazione del patrimonio archeologico di tutta l'Eurasia Meridionale prima che questo fosse esplorato era quasi totalmente inesplorato lo dimostra addirittura una civiltà scoperta per caso vent'anni fa e tutti questi oggetti che arrivano adesso sul mercato che sono straordinari molto spesso allora i vuoti nella documentazione sono e saranno imputabili non tanto alla retratezza del mondo oriente della Mesopotamia quanto all'assenza di scavi scientifici e le distruzioni che sono avvenuti negli ultimi 40 anni in pratica dal 78 in poi quando i russi hanno deciso di mandare il mondo nel caos invadendo l'Afghanistan un vecchio sogno dell'Izar però fatto da uno Stato comunista quindi anche questa è una cosa molto curiosa in queste condizioni non possiamo più pensare che l'invenzione della scrittura sia stata unica e ripetibile invenzione del mondo mesopotamico dobbiamo togliere anche noi stessi un po' dall'idea di essere il centro del mondo dobbiamo pensarla in un altro modo il ruolo delle civiltà dell'altopiano iranico e forse del Golfo Persico perché nel Golfo Persico abbiamo evidenze di cui oggi non posso parlarvi per problemi ma anche lì abbiamo scritture diverse lingue che non sappiamo collegare a niente è tutto un altro mondo anche perché l'autostrada è diretta fra l'India e la Mesopotamia e il Golfo Persico quindi il ruolo delle civiltà dell'altopiano iranico e forse del Golfo Persico in questo vasto processo di invenzione e innovazione rimane tutto da scoprire e da definire dobbiamo avere la mente aperta infatti il carattere puramente fonetico della mita lineare il primo nel mondo lascia sospettare che tale ruolo sia stato autonomo e fortemente innovativo e forse dovremmo anche mettere in discussione e ripensare in modo diverso l'origine delle scritture alfabetiche che adesso collochiamo la vicino a noi e vorrei concludere con questa frase di un pensatore tutt'altro che stupido sul quale io ho notevoli punti di disaccordo ovviamente soprattutto sulla sua idea che la storia non serve a nulla ma questa frase mi piace molto le convenzioni più delle bugie sono nemiche pericolose della verità grazie mille grazie mille Grazie.